Bentornati sul canale ragazzi, oggi vi racconto il Realme C25Y che per quanto riguarda la serie C di Realme è quello che si comporta meglio, è quello che è riuscito praticamente nell'uso quotidiano a soddisfarmi di più e in realtà anche quello che costa più rispetto agli altri della serie C. Ve lo racconto oggi in questa recensione completa, restate con me perché c'è anche una cosa che veramente mi ha fatto storcere il naso. Ci mettiamo dall'altra parte subito e ve lo racconto. Partiamo ovviamente dalla confezione dove troveremo la spilletta per poter inserire due SIM più una micro SD con memoria espandibile fino a 256 GB, manuale garanzia, abbiamo anche un cavo di ricarica purtroppo di tipo micro USB ma la presa di ricarica almeno a 18 Watt quindi supporta la ricarica veloce ma parleremo di autonomia e tempi di ricarica fra un attimo. Non abbiamo all'interno della confezione nessuna cover e non abbiamo neanche delle cuffiette ma quantomeno abbiamo la pellicola preapplicata sul display che fa sicuramente comodo e protegge il nostro smartphone da eventuali graffi. 164 mm di lunghezza per 76 mm di larghezza e uno spessore di 9,1 mm. Siamo un po' al limite però si tiene abbastanza bene anche con una mano grazie ai bordi che sono spigolose quindi mi permettono di avere sicuramente più grip. Il peso è di 200 grammi anche qui siamo al limite perché considerate che con l'utilizzo di una cover arriviamo a circa 215-220 grammi quindi insomma si sentono tutti quando utilizzate anche una cover. Sul lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento e il tasto per poter regolare il volume, lato sinistro appunto il carrellino per le due SIM più la micro SD ripeto memoria espandibile fino a 256 gigabyte, slot di ricarica di tipo micro USB sulla parte inferiore, primo secondo microfono e il foro per un jack da 3,5 pollici. Andiamo sulla back cover dove abbiamo completamente plastica sia sul retro che ovviamente anche per quanto riguarda il frame. Il modulo delle fotocamere comprende tre fotocamere, la fotocamera principale da 50 megapixel, apertura f1.8, la LED in bianco e nero da 2 megapixel, apertura f2.4 e la lente per le macro con apertura f2.4 anch'essa da 2 megapixel e infine abbiamo il flash led singolo. Avrete notato praticamente il sensore per lo sblocco con le impronte digitali fisico e vi faccio vedere che vi basta praticamente appoggiare il dito perché lo display si sblocchi in automatico sempre 10 volte su 10 è molto fulminio. Abbiamo anche lo sblocco con il volto e abbiamo la possibilità di sollevare il display per attivare lo schermo e lui in questo momento non mi sta sbloccando, come mai? Di solito è sempre molto preciso, riproviamo. Sì probabilmente perché parlavo non è riuscito ad inquadrarmi di nuovo, ve lo faccio rivedere di nuovo. Sì vi sblocca sempre esattamente come succede sempre, è solamente che appunto perché stavo parlando lui non è riuscito diciamo a sbloccarmi immediatamente e per quanto riguarda la fotocamera anteriore abbiamo 8 megapixel, l'apertura f2.0 e entrambe, sia quelle anteriori e quelle posteriori supportano l'intelligenza artificiale. Concludendo con la back cover abbiamo l'altoparlante posto sulla parte posteriore con il logo Realme Risalto. Sapete benissimo se avete visto le mie recensioni di tutti gli altri Realme di questa fascia che almeno l'altoparlante posto qui sulla parte posteriore non mi piace per niente perché la propagazione dell'audio non è ottimale. Vi dico subito che il volume è alto ma aver posizionato l'altoparlante sul letro genera appunto dei problemi. Ve lo faccio sentire subito. Quello che succede appunto è che quando magari poggiate lo smartphone su una superficie piana appunto l'audio va ad ovattarsi. Stessa cosa quando lo tenete per esempio in mano in questo modo a volte può capitare di andare praticamente a otturare l'altoparlante. Insomma scomodo, non ottimale, avrei preferito come al solito un altoparlante posto qui sulla parte inferiore piuttosto che sulla parte posteriore. Ma andiamo adesso per quanto riguarda le specifiche hardware di questo Realme C25Y. Vi dico subito che monta un processore Unisoc T618, il migliore in questo caso montato sulla serie C perché ci permette di avere uno smartphone fluido, nell'uso quotidiano nessun problema. Ma adesso ve lo faccio vedere. Intanto vi dico che il software è la Realme UI in versione R Edition basata su Android 11 con le patch di sicurezza aggiornate al 5 settembre 2021. Abbiamo 4 giga di RAM LPDDR4X e la sorpresa è proprio sulla memoria che è da ben 128 gigabyte. Nota dolente è il wifi che purtroppo è solamente monoband, bluetooth 5.0, non abbiamo la radio FM e nemmeno il sensore NFC. Le due sim vanno entrambi in 4G con tecnologia dual standby e vi faccio vedere adesso come gira il nostro Realme C25Y. Devo dirvi che rispetto praticamente a tutti gli altri che abbiamo provato, lui è quello che ha meno lag di tutti, meno impuntamenti. Chiaramente quando deve andare a caricare contenuti potrete sicuramente incontrare qualche secondo di attesa ma successivamente riesce tranquillamente a scorrere tranquillamente all'interno delle applicazioni. Andiamo a vedere per esempio anche Facebook. Nessun problema davvero, l'ho utilizzato per settimane trovandomi veramente bene nell'uso quotidiano. Vi faccio vedere anche YouTube. Vedete qualche secondo prima di caricarla ma poi nessun problema nell'utilizzo. Anche dal punto di vista gaming si comporta bene. L'ho provato con Clash Royale, con Call of Antia, con Call of Duty Mobile, con League of Legends. Nessun problema. Chiaramente quando andate ad aprire un'applicazione un po' pesante lui impiega un po' di tempo. Chiaramente per esempio Call of Duty Mobile non sarà velocissima all'apertura come magari uno smartphone che monta un processore top di gamma. Ma a parte questo nessun problema durante diciamo le ore di gameplay che avete intenzione di affrontare. Quindi sicuramente promosso dal punto di vista diciamo delle prestazioni nell'utilizzo quotidiano magari a volte ho incontrato qualche impuntamento diciamo più significativo quando per esempio si vanno ad aprire alcune interfacce per condivisione di contenuti eccetera eccetera. Ma nessuna criticità a mio avviso da lamentare per quanto riguarda ovviamente la fascia di prezzo al quale ci stiamo riferendo. Passiamo al display che è da 6,5 pollici con risoluzione HD plus 1600x720. La frequenza di aggiornamento è 60 Hz quindi non abbiamo sicuramente uno schermo fluido e la frequenza di aggiornamento al tocco è di 60 Hz. Ma qui devo appunto comunicarvi la cosa che mi ha dato veramente un sacco di fastidio durante queste settimane. Mi riferisco proprio alla sensibilità del touch ovvero nessun problema durante l'utilizzo di Instagram, Facebook eccetera eccetera. Ma quando si va a scrivere sulla tastiera lui non riesce a starvi dietro e ve lo faccio vedere subito. Stavo pensando alla... Ciao brother stavo... Vedete cosa succede? Si attiva praticamente la modalità a scorrimento. È una cosa veramente fastidissima. Nessun problema se utilizzate per esempio la modalità a scorrimento. Se volete scrivere ciao brother alle... vediamo alle non so... alle 9 ci vediamo. Nessun problema. Ma quando per esempio volete andare a scrivere la stessa cosa digitando in successione a volte può capitare che appunto si attivi la modalità a scorrimento e questo genera praticamente veramente un fastidio tremendo perché non si fa altro che riscrivere, cancellare, tornare a riscrivere. Insomma non sono sicuro che sia un difetto hardware ma sicuramente non è software perché ho provato a cambiare tastiera, ho provato anche a disattivare la modalità a scorrimento per quanto riguarda la digitazione attraverso le varie applicazioni di messaggistica ma il discorso non cambia perché piuttosto che attivarsi la modalità a scorrimento lui non riesce proprio a starvi dietro mentre praticamente andate a scrivere. Questa è diciamo la cosa che più mi ha dato fastidio rispetto a questo Realme C25 Y. Giusto segnalarvelo, ripeto, non so se è un difetto hardware, magari è il mio smartphone che è difettoso oppure semplicemente il pannello appunto che è di base appunto non è così sensibile quindi genera questo tipo di problemi. Possiamo passare all'autonomia che è veramente il punto forte di questo smartphone. Grazie a un processore che è così poco ghiotto di energia riesce a darvi davvero tantissime ore di display e tantissime ore di autonomia. Devo dirvi che comunque c'è un software che gestisce in maniera un po' forse troppo invasiva le varie applicazioni quindi le va un po' diciamo a chiudere in background quando sono in stand by e questo comunque vi garantisce appunto un'estensione della durata della batteria così significativa ma comunque io mi è bastato magari nell'applicazione in cui avevo necessità andare manualmente ad impostare che non venissero chiuse in background attraverso la sezione dedicata alla batteria e comunque sono riuscito a fare tantissime ore di display e tantissime ore di autonomia. Ve lo faccio vedere subito qualche screen rispetto a vari cicli di ricarica. Ecco per esempio questo qui tre giorni di utilizzo dove ovviamente manca la linea di scarica della batteria è perché la notte lo spengo sempre. Vedete qua due ore di Chrome, un'ora di YouTube insomma è riuscito a durare tre giorni con 9 ore e 15 di schermo e vi faccio vedere un altro ciclo di ricarica un po' più intenso con due ore di chiamata, un'ora di maps, calofantia per 41 minuti insomma comunque è riuscito a portarmi fino a sera con 35 ore di durata totale e 6 ore e 41 minuti display. Quindi dal punto di vista dell'autonomia super promosso. Vi dicevo all'inizio che abbiamo una presa di ricarica a 18 watt e quindi abbiamo la ricarica veloce e quindi possiamo passare dal 20% fino al 70% in un'ora e caricarlo completamente in due ore. Possiamo passare alla fotocamera di questo Realme C25Y, vi faccio vedere subito l'interfaccia utente della fotocamera, in alto la possibilità di attivare le Google Lens, di poter impostare o meno il flash se è automatico, spenderlo o accenderlo, l'HDR e poi attraverso l'impostazione ovviamente possiamo andare a sistemare tutta una serie di cose tra cui ovviamente questa impostazione molto carina che mi è piaciuta tocca per scattare, mi basta appunto cliccare sul display, lui mette a fuoco e andrà a fare uno scatto. Per quanto riguarda i video possiamo registrare fino a 1080 massimo 30 fps oppure scendere via via su risoluzioni più basse. Devo dirvi che però se avrete intenzione di utilizzare i 50 megapixel bisogna andare manualmente ad impostare qui nella sezione altro attraverso l'icona la modalità 50 megapixel che appunto mi permette di scattare foto con questa risoluzione. Diversamente di base praticamente è impostata a 12,5 megapixel che comunque restituisce delle foto abbastanza convincenti. Chiaramente mi riferisco a condizioni di grande luminosità, ovviamente con poca luce non riesce a fare benissimo, questo vale un po' per tutti gli smartphone. Adesso io vi lascio a tutte, anzi ad alcune fotografie che ho scattato con questo Realme C25Y, ma restate con me perché per quanto riguarda la fotocamera ho intenzione di svelarvi una cosa ma solamente a fine video quindi ci vediamo fra un attimo. Grazie a tutti. 179,99€ il prezzo di attacco sul sito ufficiale di questo Realme C25Y che secondo me sono un po' troppo, più specie se appunto abbiamo quel difetto della tastiera che è legato proprio al pannello e quindi magari qualcosa che non possono risolvere magari più avanti tramite software, ma comunque se magari per esempio riuscite a scrivere con la modalità scorrimento non vi frega niente di tutte queste storie qua, bene, si può trovare anche a prezzi più vantaggiosi per esempio online. Su Ebay siamo intorno ai 140-150€. Per quanto riguarda invece la fotocamera noi ci vedremo nelle prossime settimane perché farò un video dedicato interamente alla fotocamera di questo Realme C25Y, quindi restate con me, ma per oggi basta così, quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e ovviamente per qualsiasi domanda come al solito ci vediamo qui sotto nei commenti. Un saluto da Archiglobe e da Realme C25Y. Ciao!